Ciao, sono Itsela dal Parque Omar, posto dove si terrà il Centro delle Vocazioni qui nella città di Panama. Bentornati a una nuova edizione di GMG in un minuto. Il Centro delle Vocazioni, sotto il nome Seguimi, è un'attività molto importante della GMG che si terrà dal 22 al 25 gennaio 2019. Il Centro delle Vocazioni è un evento in cui i giovani hanno l'opportunità di approfondire il loro discernimento vocazionale attraverso workshop, tang, momenti di preghiera, giochi, incontri di orientamento vocazionale, conversazioni e interazione. Attraverso il Centro delle Vocazioni, Seguimi, sarà condiviso il Kerigma vocazionale con tutti i pellegrini, cioè il grande annuncio per tutti noi di avere una vocazione specifica, vuol dire di essere chiamati da Dio per un progetto di vita, matrimonio, vita religiosa, sacerdozio o vita laica. Il Centro delle Vocazioni rafforza la vita di un vero pellegrino, cioè di coloro che desiderano essere felici e raggiungere la vita eterna. Ecco perché il Centro delle Vocazioni non è solo per alcuni, è proprio per tutti noi che vogliamo seguire Gesù. Se ti stai preparando a partecipare alla GMG, il Centro delle Vocazioni è una grande esperienza che dovresti assaporare. La tua presenza in questo evento è molto importante. Iscriviti nella sezione Festival sul sito www.panama2019.pa selezionando Centro delle Vocazioni. Non perdere l'occasione e partecipa al Centro delle Vocazioni Seguimi. Puoi trovare maggiori informazioni sui nostri social. Ci vediamo a Panama!